Il Liceo Statale Leonardo di Giarre ha ospitato la cerimonia di conclusione del progetto Erasmus Do Something for Climate Change che ha coinvolto gli studenti di sette stati europei, Polonia, Spagna, Turchia, Francia, Romania, Lettonia ed Italia. Il Liceo Giarrese ha accolto i docenti e gli studenti provenienti dalle scuole partner straniere coinvolgendoli in incontri sul tema del cambiamento climatico, visite guidate tra barocco, siti naturalistici e culturali, usi e costumi, pis teatrali, esperienze in famiglia, scambi linguistici e specialità isolane. I giovani studenti europei sensibili alla tematica del cambiamento climatico, tema principale del progetto Erasmus, hanno dimostrato grande impegno contro le sfide dell'emergenza in questione. Allo stesso tempo hanno avuto la possibilità di sviluppare e condividere conoscenze e competenze, e vivere esperienze di mobilità presso scuole, istituti e organizzazioni straniere. Io sono molto contenta di avere qui i ragazzi delle varie delegazioni, perché a sua volta i nostri ragazzi sono stati già nelle loro nazioni, hanno avuto l'opportunità di visitare le loro scuole, visitare le città di provenienza e vivere questa esperienza dell'Erasmus presso le loro famiglie. Quindi per noi è un grande piacere ricambiare l'ospitalità ricevuta, anche consapevoli della grande importanza che questi progetti hanno per la formazione dei nostri studenti. In relazione non solo a tematiche così importanti come il cambiamento climatico, ma anche alla consapevolezza di sé. I nostri studenti, grazie a questi progetti, oltre a visitare paesi stranieri, parlano la lingua in maniera fluente, tornano più maturi perché, grazie a questa esperienza, acquisiscono una maggiore consapevolezza di sé. Certo, questi progetti che si estrinsegano in queste attività di mobilità sono sicuramente per gli studenti dei progetti molto importanti. Per il team della scuola che se ne occupa, in particolare mi riferisco alla professoressa Cotugno, che è la responsabile, alla professoressa Silvana Laporta, al professore Giancarlo, Gianluca Pappalardo, che sono qui con me, è un grande lavoro. Assieme a loro ci sono anche tanti altri docenti della scuola che si sono prestati ad essere accompagnatori, grazie ai quali questi progetti possono essere espletati. Io li ringrazio tutti, così come ringrazio tutte le famiglie per l'apertura dimostrata e per la disponibilità che hanno avuto nell'accogliere gli studenti stranieri. Noi ce la mettiamo tutta nella consapevolezza che anche attraverso questi progetti raggiungiamo la maturità dei nostri studenti e l'acquisizione sempre di migliori competenze che li porteranno ad avere dei risultati che ci renderanno sempre di più orgogliosi di loro. L'Erasmus è un progetto che ci dà l'opportunità di parlare di cittadinanza europea, di far spostare gli studenti in Europa e quindi di mettere ovviamente in pratica in un contesto autentico la lingua straniera. Il progetto che abbiamo implementato che giunge alla conclusione ha il titolo di Do Something for Climate Change and Natural Disasters e ha messo insieme vari paesi europei quali la Spagna, la Francia, la Polonia, la Romania e la Turchia e noi e abbiamo stretto un partenariato che ha fatto vivere delle esperienze meravigliose ai nostri ragazzi. Il progetto Erasmus non è solo formazione linguistica e conoscenza di altre civiltà ma è anche per i nostri ragazzi un'occasione di formazione culturale e i nostri ragazzi hanno visitato alcuni dei musei più importanti d'Europa per esempio il Museo Munchi in Norvegia il Museo della Seconda Guerra Mondiale a Varsavia e hanno visto il luogo in cui è iniziata la Seconda Guerra Mondiale la lingua di terra di El vicino a Danzica hanno visitato per esempio il Museo Solidarnosc sempre a Danzica e poi una visita straordinaria che è stata toccante, commovente quella di Auschwitz dalla quale i ragazzi sono tornati veramente trasformati hanno seguito veramente in religioso silenzio questa esperienza quindi per noi è importantissimo portarli in Europa e fargli conoscere la cultura e la civiltà europea ovviamente il problema climatico ci sta molto a cuore perché è un problema che proprio riguarda appieno la nostra generazione abbiamo avuto modo di fare diverse discussioni con gli altri ragazzi e abbiamo parlato di come il cambiamento climatico ha portato dei cambiamenti nelle nostre nazioni abbiamo anche discusso di alcune strategie che potevamo applicare ad esempio per non sprecare troppo le nostre risorse preziose come ad esempio l'acqua e in generale dei metodi che possiamo applicare per riciclare le nostre risorse abbiamo fatto una performance teatrale sul cambiamento climatico in particolare sulla mancanza di acqua e la scarsità di acqua in Sicilia quello che noi abbiamo imparato è che il nostro atteggiamento deve cambiare e quindi dobbiamo cercare di risparmiare l'acqua il più possibile utilizzarla solo quando è necessario aprire il rubinetto solo quando dobbiamo lavare le mani e quando laviamo i piatti e dobbiamo anche cercare di gestire la quantità di acqua e quello che noi dobbiamo attenzionare è i rifiuti che vanno gettati nelle acque nell'oceano, nel mare nessuno di noi vuole farsi il bagno in un mare pieno di immondizia Sì, la Sicilia ci ha accolto molto bene abbiamo visto dei bellissimi posti ad esempio a Citrezza e Siracusa il progetto è alla conclusione ma è stato meraviglioso e divertente essere tutti insieme vedere i ragazzi stare insieme di diverse nazionalità speriamo di lavorare in futuro insieme grazie